Si è concluso lunedì il viaggio in Albania del sindaco di Vallefoglia Ucchielli, dove è andato a far visita a tre città con le quali da tempo viene mantenuto un rapporto di collaborazione. Fare tappa a Durazzo, Tropogia e Fugiares è stata l'occasione per dialogare su diversi argomenti, dalle tematiche ambientali e la sostenibilità alle imprese e l'economia. Il rivitalizzato filo conduttore con il Paese delle Aquile è dettato anche dalla massiccia presenza della comunità albanese nella terra di Vallefoglia, la più numerosa dopo quella italiana. Un popolamento che nel corso del mandato decennale di Ucchielli, ormai orientato verso la conclusione, ha visto gradualmente il suo accrescimento, rendendo di primaria importanza l'integrazione del popolo albanese nella realtà di Vallefoglia. Un melting pot interculturale che l'amministrazione, attraverso progetti e infrastrutture ampliate negli anni, considera positivamente. Io direi che è buono, discreto, non dico ottimo, perché è chiaro che sono tanti, oramai penso un buon 50-60% gli immigrati dall'Italia, dall'Europa e dal mondo. E farne una comunità non è proprio così semplice. Però devo dire che qui è la città del lavoro, della piena occupazione, quindi diciamo anche tutti gli immigrati che vengono trovano lavoro. E quando lavora marito e moglie in una coppia, quando lavorano tutti i giovani, ci sono un po' meno problemi. Non vuol dire che non ci sono i problemi. Qui, mentre a Pesora fanno, che pure sono città, che hanno inventato i nidi, fanno fatica ad avere i posti, noi abbiamo 60 posti nuovi, 40 dei quali già occupati, ma 20 ancora liberi, per i bimbi che consentono di avere maggiore ricchezza. Quindi direi che sono abbastanza soddisfatto, anche per uno come me, che ha una storia amministrativa, istituzionale. Però avrei pensato di aver avuto più problemi, devo dire la verità, con tutti questi immigrati. Tant'è che anche al prefetto del questore ho detto, insomma noi abbiamo una miscela già importante, non rendiamo l'esplosiva. E quindi devo dire che c'è stata una buona cooperazione con la polizia locale, con l'arma e i carabinieri, con il maresciallo, che è uno che conosce il mestiere, e c'è stata anche, qui ci sono una quantità di impianti sportivi che fa paura all'aria, quindi i ragazzi, abbiamo tre centri di aggregazione intergenerazionali, abbiamo molti luoghi di incontro e avremo con l'inaugurazione del teatro in autunno due teatri. Alla fine del mandato di dieci anni è chiaro che uno lascia una situazione dove grandissima parte dei servizi sono state date delle risposte, poi i problemi non finiscono mai, intendiamoci. Ecco, però sono molto soddisfatto, c'è un bel rapporto con i cittadini, devo dire, che hanno un buon rispetto e danno una bella mano e quindi, insomma, credo che si possa dire che c'è grossa soddisfazione nella comunità. Se devo dire che ho problemi di tensione con i cittadini, assolutamente no.